Rispetto alla seconda domanda, io non posso dire che provo disagio rispetto a un consigliere comunale che fa saluto romano, provo disagio personale. Qui possiamo anche metterci a discutere, non è il problema se poi la risposta è mai regimi comunisti, rimane il fatto che la Costituzione è precisa da questo punto di vista. E quindi io penso che il mio disagio è evidente, dopodiché bisogna capire cosa succede in quella parte politica. Stamattina ho letto, come credo anche voi, nelle parole della Meloni quasi lo stesso disagio, immagino non lo stesso, ma insomma è chiaro che devi essere conseguente. Se hai un consigliere che a Torino ringrazia i camerati che ne hanno aiutato ad essere a letto, devi essere conseguente. Per cui, per la Meloni possiamo dire tutto, ma non che è stupida, proprio no. È chiaro che questo è un tema, è un tema, quindi io dico il mio personale di disagio è la speranza che se deve essere una stagione da cancellare, però ci vuole, soprattutto nei protagonisti, molta fermezza.